PEGI 18 Quando cadde l'asteroide, miliardi di persone scomparvero in un istante. Nacquero fazioni. Si crearono alleanze. Si spartirono i territori. Non rimase più nessuno a imporre divieti. E in questo luogo immenso e selvaggio, se volevi davvero qualcosa, potevi prendertelo. Perché in un mondo senza regole, l'unica regola è la follia. E in un mondo senza regola. E in un mondo senza regola. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Signнали da diyor No, but you're back behind you